Si può conciliare la famiglia con il lavoro? Questo è il tema della Conferenza delle Regioni Europee che si è aperta oggi ad Abano Terme. Un problema sentito in Veneto come in tutta Italia. Se da un lato è incoraggiante il dato sull'inserimento femminile nel mondo del lavoro che si attesta al 55,5%, cioè 8 punti in più rispetto alla media nazionale, dall'altro la struttura familiare tradizionale sta cedendo il passo alla famiglia nucleare. Il 47,8% delle coppie in Veneto si orienta ad avere un unico figlio. Questo determina una richiesta crescente di sostegno da parte delle famiglie. In tal senso la Regione ha adottato una serie di strumenti tra cui il progetto Marchio Famiglia. La Regione ha messo in cantiere diverse iniziative, una di queste è anche il Marchio Famiglia che vuole mettere in evidenza, a premiare le buone pratiche messe in campo da diversi soggetti pubblici e privati che siano soggetti di impresa e anche soggetti no profit e che nella loro organizzazione aziendale considerano le esigenze della famiglia, considerano la famiglia come soggetto unitario e quindi mettano in campo delle politiche anche di conciliazione per esempio. La conferenza è stata occasione per valutare l'opportunità di mettere a disposizione servizi flessibili e nuove tipologie di contributo come i voucher per la famiglia al fine di sostenere le famiglie che devono crescere un figlio, specialmente nel periodo critico, da 0 a 3 anni o assistere a un parente malato, disabile o anziano. Per questo l'Italia, troppo spesso considerata fanalino di coda, guarda i modelli europei. Guardando a un paese europeo un modello? La Germania e la Francia sono sicuramente avanti perché hanno da diversi anni investito molto nelle politiche familiari e quindi anche nelle politiche di conciliazione.